e parlare direttamente con il maestro Letterius se hai problemi sul lavoro, con i tuoi figli la persona che ami si sta allontanando il tuo amore ti ha lasciato sei preoccupato per tuo figlio allora allontana i tuoi dubbi per avere una risposta che ti consenta di prendere la giusta decisione chiama con fiducia Letterius, il maestro puoi consultarlo direttamente tu per un'altra persona l'importante è che ricordi di avere con te una foto la data di nascita o un indumento di un tuo caro il maestro Letterius analizzerà professionalmente con la massima segretezza la foto la data di nascita e scoprirà il pensiero della persona che ti sta a cuore le sue doti e le sue ricerche oggi gli permettono di adoperare arti divinatorie conosciute da pochi operatori di tutta Italia molte persone si affidano al grande maestro Letterius perché i casi a cui può sottoporsi non hanno limiti in amore, affari, iettature, malefici, legature centinaia di lettere di ringraziamento attestano la validità del suo lavoro Chiediamo a Silvia di raccontarci la sua storia cosa ricordi di quel periodo? Di quel periodo l'unica cosa che ricordo in questo momento è il mio incontro con il mago Letterius perché ero arrivato a un tale punto dopo anni ci si adatta a credere anche a cose in cui fino a quel momento non si è mai voluto credere ho visto la pubblicità del mago Letterius sull'elenco telefonico e ho detto vabbè proviamo anche questa strada perché ero veramente disperata ho telefonato mi ha fissato un appuntamento e c'è stato un primo incontro con il mago Letterius molto emozionante per me perché è stata l'unica persona che è stata capace di sviscerarmi un qualcosa dove ha toccato un punto di me, della mia anima dove non era mai arrivato nessuno e con un consulto di carte ho riuscito a leggere tantissime cose al mio passato che avevo negato anche a me stessa e ripeto è stato un incontro molto emozionante ed è stato l'inizio della mia risalita è stato l'inizio del mio ritorno alla vita quindi non lo so è stata veramente una cosa molto significativa per me e grazie a lui adesso posso dire finalmente di aver ripreso a vivere Predice il futuro attraverso la lettura della mano è un'arte interpretativa secolare attraverso la quale è possibile capire il carattere definire l'abilità e il talento giudicare la salute verificare le inclinazioni e valutare le potenziali capacità di un individuo attraverso la lettura della chiromazia ti consiglierà cosa fare per avere un matrimonio migliore